Grazie 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 E ringrazio Non è il momento Di lasciare commenti E come sta Un Indonesian? Non sta bene E' in carcere Direi che non sta bene Quanto Ho delle dichiarazioni Sui verbali? Non ho idea Non ho idea Ha detto che oggi Avrebbe fatto Avrebbe spiegato Avrebbe detto Buon lavoro Niente 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 Nessuna dichiarazione Questa cosa Ce la può spiegare Ma invece Non era in aula Non ho idea Lei lo sapeva Che non era in aula Non ho idea Vengo in aula la mattina non ho idea di quello che succede in aula. Se lei se l'aspettava presente non c'era? Non lo so. Come non lo so? Si è messo d'accordo l'avvocato? Non lo so. Avvocato almeno su questo però. Quando il processo finirà leggerete le sentenze, corretto? Su. La natura è meravigliosa. Visto che questo è l'unico materiale che tu avrai. Sì, ok. Sì. 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 Sì.